Parcheggi blu nel fine settimana per evitare una sosta selvaggia e incentivare una riqualificazione della Baia che passa per l'utilizzo di mezzi pubblici e navette. La decisione dell'amministrazione di trasformare a pagamento nel weekend gli stalli di Campo di Marte non ha trovato però giudizio favorevole nelle forze politiche di opposizione. In particolare il gruppo consigliare della Lega ha sottolineato la sua contrarietà al provvedimento. Abbiamo contestato il fatto che l'amministrazione come spesso accade prende decisioni fondamentali per la città e queste decisioni non vengono condivise in commissioni. Questo provvedimento in particolare non ci va bene assolutamente perché in un anno così difficile di Covid le persone già hanno avuto un ammanco dei guadagni, la disoccupazione alle stelle e tutte le varie problematiche. Insomma ci sembra a dire poco indelicato se non diciamo poco rispettoso mettere a pagamento un momento di tranquillità che la gente ha dopo mesi e mesi di lockdown. Quindi non siamo assolutamente d'accordo. Abbiamo chiesto al limite uno spostamento a staltranno del provvedimento ma non penso che il comune ceda perché questa è una gallina dalle uova d'oro dove ci sono più di 100 e passa posti auto e quindi un euro all'ora chiaramente per il comune far cassa. Il nuovo parcheggio di Baia Flaminia ha un provvedimento per cui io ho votato a favore perché pensavo che 85 posti auto in più per questo quartiere che abbiamo promosso negli ultimi anni e quindi è decollato anche dal punto di vista turistico alberghiero e anche ristorantizio diciamo e potesse essere un respiro ma se dobbiamo realizzare 85 posti auto là gratuiti e farne pagare 120 qua allora non ha molto senso ecco questo provvedimento. In replica alle dichiarazioni dei consiglieri della Lega il gruppo di maggioranza Forza Pesaro Un Gran Bel Po ha rimarcato i motivi alla base del progetto. Nei mesi passati quando abbiamo provato il nuovo parcheggio di via Belgrado era un parcheggio provato e realizzato apposta pensando a una riprogettazione della viabilità in senso sostenibile di tutta la Baia Flaminia e fra questo c'è anche la riorganizzazione del parcheggio di Campo di Marte che sappiamo benissimo che nella stagione estiva e soprattutto nei weekend è soggetto a una sosta selvaggia. Il parcheggio a pagamento combinato alla diciamo l'offerta della navetta dal porto a Campo di Marte è uno degli interventi che pensiamo per la riqualificazione di tutta la Baia e non è solo legato a questa zona del mare ma come sappiamo anche alla riqualificazione tutta della zona mare di Viale Trieste dove anche lì un nuovo parcheggio e quello di Villa Marina è stato combinato alla ZTL quindi vogliamo cercare di rendere la città più fruibile potenziando il servizio pubblico e cercando di potenziare altre forme di trasporto che sono la bicicletta e tutte quelle che stiamo valorizzando in questi anni. Tra le dichiarazioni e le proposte da parte dei consiglieri comunali della Lega lo slittamento di questa proposta di questo progetto di un anno? Sì anche questa è una cosa che non capiamo bene da parte della Lega parlano del fatto del timore dell'utenza a prendere i mezzi pubblici in realtà è la Lega stessa che da mesi spinge per tornare alla normalità, togliere il coprifuoco, non avere più limiti nei ristoranti quindi non capiamo perché in realtà ci sia un problema in un servizio pubblico che ovviamente viene garantito in sicurezza quindi noi non vediamo perché non si debba iniziare da subito, anzi bisogna iniziare subito.